Ben ritrovati con AgriMag News. Termine ultimo il 30 giugno per chiedere gli incentivi comunitari per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018-2019. La GEA ha diffuso le istruzioni operative relative alla modalità di condizione per l'accesso all'aiuto. I contributi sono per la riconversione varietale, la diversa ricollocazione del vigneto o del suo reimpianto, il reimpianto dopo estirpazione per motivi fiduzionalitari e il miglioramento delle tecniche di gestione. Potranno beneficiare della misura persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uva da vino e coloro che detengono autorizzazioni del reimpianto dei vigneti valide, a esclusione delle autorizzazioni per i nuovi impianti. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente online attraverso il portale del Sian.